Pupo, Pupo, come potete vedere, operazione autografi. Mia figlia mi aveva chiesto, papà, Pupo mi piace, possiamo mica avere un cd, una cosa? Cinque anni, volentieri, gli ho detto ci proviamo, poi magari non ci risponde. Due giorni dopo, tre cartoline, un altro l'ho appeso nella sua stanza, cd, autografato Pupo. Questo, che tutti, eh, gne, gne, pupo, pupo, questo è la dimostrazione, questa qua, di essere un grande artista, perché questo è un ricordo per sempre, per sempre, anche se è una piccola cosa, è una grande cosa invece.